Si terrà domani pomeriggio a Fondachiello di Mascali il quinto trofeo Team Etnafish, uno degli appuntamenti più importanti nell'isola per gli appassionati di surfcasting agonistico, disciplina il cui termine descrive la pesca sportiva dalla spiaggia effettuata con una sola canna. Il trofeo è organizzato dall'associazione sportiva Team Etnafish, società fondata nel 2004, che dopo una crescita costante è arrivata a conquistare nel 2014 il titolo di Campioni d'Italia, che gli ha permesso di partecipare l'anno successivo ai campionati mondiali in Sudafrica. Ai nostri microfoni il vicepresidente del Team, Salvo Rigoli, ci spiega i motivi dei loro successi, illustrando gli obiettivi della manifestazione sportiva di domani. I motivi sono sempre dati dall'impegno, dalla costanza, dalla voglia di far bene, dall'avere anche un po' di fortuna, queste sono le basi principali. Parliamo un po' ad esempio della vostra esperienza in Sudafrica, che voi siete andati lì come campioni d'Italia, che esperienza è stata, cosa vi siete portati dentro? Diciamo che è stata un'esperienza bellissima, ma nello stesso tempo drammatica, perché è la prima volta che pescavamo nell'oceano e quindi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. L'esperienza ce la siamo fatta e quindi se un domani dovessimo andare di nuovo a pescare in un oceano, sappiamo qualcosa in più. Qual è il seguito di questa disciplina, del surfcasting in Sicilia? Il seguito? Noi da qualche anno stiamo adottando il sistema a livello nazionale, il catch release. Cioè noi peschiamo, viene misurato il pesce e viene rilasciato, quindi per far sì che la fauna non venga distrutta, diciamo, sotto costa. Anche se capita spesso che noi facciamo le gare, facciamo il catch release e poi a 300 metri ci calano le reti davanti e tutto quello che è il sistema sbagliato qua al sud. Questo. Ci sono dei giovani che desiderano avvicinarsi alla vostra disciplina o sono ancora rari? No, 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 ci sono moltissimi giovani e c'è anche l'Under 17, l'Under 21 a livello nazionale. Quindi ci sono ragazzi che hanno la passione per la pesca e ne fanno uso e consumo come noi. Quinto torfeo Etna Fish che si terrà domani a Fondachiello. Quali sono gli obiettivi di questo torneo a livello organizzativo? Gli obiettivi sono quelli di far divertire tutti i partecipanti con una bella pescata, stare insieme tra amici, riuscire a passare una bella giornata. Il medico bene o male dovrebbe aiutarci per sabato e domani. C'è il nostro presidente Davide Molino che in questo momento porta anche i suoi saluti perché è molto indaffarato nell'organizzazione del trofeo.